Valtore Rossini, oggi una prova un po' vaga da parte degli azzurri. Sì, siamo stati contratti, non abbiamo espresso il nostro miglior gioco sicuramente, è stato una tre giorni di gare qui un po' così, non siamo contenti, non era questo il nostro obiettivo, però dobbiamo guardare avanti perché sicuramente non è ancora deciso nulla e quindi dobbiamo continuare a crederci cercando di giocare più con il sorriso di quanto stiamo facendo perché ci pesano troppo degli errori che a volte ci possono anche stare e questo a volte ci condiziona, quindi dobbiamo essere bravi, dobbiamo avere le spalle larghe per andare avanti ed è quello che vogliamo. Senti, questa sconfitta un po' complica il vostro cammino adesso verso la Final Six, niente deciso chiaramente però un po' lo complica. Hanno complicato tutte quelle che abbiamo subito e non solo questa, adesso sarebbe da ipocrite di pensare che questa adesso complica il nostro cammino, non è l'unica sconfitta, abbiamo subito sconfitte in Argentina, abbiamo subito sconfitte in Giappone, abbiamo subito sconfitte qui, quindi non è questa quella che complica. Dobbiamo andare consapevoli che adesso servirà un grande weekend a Modena, io sono strafitucioso che il pubblico italiano e il pubblico modenese ci darà una grandissima mano e proveremo a crederci tutti insieme.